La Fratelli Guzzini, con Venice, continua il suo percorso di prezioso quotidiano. Qui a Venezia è sempre stata una ricerca di portare ai massimi livelli l'espressione della materia, quindi i cristalli, la lucentezza e le riflessioni. C'è un gioco di trasparenze, di ritaglio, di intarsio, un gioco di profondità. Venice nasce da una sfida che Fratelli Guzzini ha voluto accogliere, che è quello di portare nella tavola di tutti gli italiani un servizio del Settecento veneziano, riinterpretato in chiave moderna, sia come design che come materiali. C'è stato tutto un lavoro di ricerca sul migliore acrilico, che potesse rendere al meglio le caratteristiche che si avvicinano, in termini di qualità estetica, a quelle del cristallo, del miglior cristallo. Questa forma spanciata che caratterizza tutta la collezione la rende molto ergonomica, molto materna. La collezione inoltre si caratterizza da un design estremamente pulito, molto assoluto, però allo stesso tempo anche naturale. Abbiamo cercato di lavorare con spessori che cambiano, con degli effetti lenticolari, che di conseguenza creano un effetto molto optical, molto caledoscopio, in maniera che ci sia una rifrazione della luce. La trasparenza e la lucentezza sono delle caratteristiche che danno ad un oggetto, come anche ad una vetrata, a una ricchezza e un'eleganza di altissimo livello. Queste differenze di profondità che rendono l'oggetto vivo, rendono una superficie vibrante, rendono una superficie cangiante, rendono una superficie che cambia nell'arco della giornata. Solo grazie a questa ricerca continua che c'è all'interno dell'azienda si è potuto arrivare a un risultato, a un prodotto di industria design di questo livello.